Oggi abbiamo il primo agosto e abbiamo scappottato con Lidia, mia mamma, amiciata anche la mia ragazza, però fino a ora non abbiamo trovato niente, io e lei. Mamma invece ha scappottato con questo, con questo aereus, è un nero questo qua, un bel nero, va bene, il mio prossimo porcino lo dedico a Marco, di Ritma 62, al prossimo. Che fatica, però iniziamo a carburare, uno, due, tre, andiamo a più di qua e vediamo cos'altro c'è. E uno, quattro, sono secchi, caviamoli, questo è durissimo, la faccia di bicarbonato di sodio, dopo li puliamo, questo è un'altra, ecco, e questo è il quarto, piccolino, che fatica, però, eh, con questo caldo, ecco lì, va bene, a dopo, un altro porcino, era proprio nella terra, ma dopo, porcini vecchi trovati, un paio di ovuli, e adesso un altro porcino, vediamo con me, questo è bello ragazzi, bianco, bianco, va bene, a dopo, signore e signori, siamo in bosco, alla ricerca del porcino, porcino ancora niente, un satanas, due ovuli che abbiamo trovato, uno io e uno mia ragazza, adesso un altro ovulo, bello, lo capiamo, ecco, lo vedete? Allora, alla prossima, continuiamo con gli ovuli, quattro insieme, ecco, ecco, si è spezzato, senza i vermi, pulito, e dopo, altri due ovuli, porcini niente purtroppo, però, ci accontentiamo degli ovuli, che sono ottimi, crudi, nell'insalata, vedete? va bene, va bene, a dopo, porcini niente, ovuli, meno male li stiamo trovando, va bene, a dopo, va bene, ovulo, ancora ovulù, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non lo so per quanto tempo continuerò a trovarli, porcini niente, mi dispiace. Però io penso che per fine giornata uno lo troverò. E meno male che troviamo gli uovoli. Oggi li mangiamo qui nell'insalata. Va bene, a dopo. Allora, continuiamo a trovare gli uovoli senza trovare tracce di porcino. Guardate che belli. Guardate che belli. 1 2 Belli, belli, belli. E uno piccolo che non si vuole togliere. L'anello l'abbiamo lasciato per fare spore. Ecco, questo è il terzo. Va bene. A dopo. Signore e signori, ho detto che avrei mantenuto la promessa. Uno, un po' mangiucchiato, l'ho trovato. Finalmente. Finalmente. Eccolo. Lo caviamo. Ecco. Il bocciolotto. Il signorotto. Mangiato dalle lumachine. Buon appetito. Però, è bello sano. Insieme agli uovoli, nell'insalata andrà bene. Va bene. A dopo.